Il loro, esibiranno i loro vessilli, tutta una serie di armamentario che si riconduce al ventegno fascista. Dopo tanti anni di mobilizzazione quest'anno siamo riusciti a impedire questa parata nazifascista. Un piccolo risultato che non possiamo e non dobbiamo e non vogliamo che sia considerarla una vittoria. Un piccolo risultato che dovremo portare avanti anche nei prossimi mesi. Grazie per la visione!